Ciao Cesare! Mi dà tanta gioia leggere le tue parole. Per favore, invia il mio amore a tutta la nostra famiglia. Non vedo l'ora di aggiungere all'albero genealogico. Anche quando penso al mio nonno, nonno è quello che abbiamo chiamato John. Vorrei poter parlare con lui di più, ma va bene. Jesse, Jessica ed io siamo al sicuro qui in California, ma gli incendi sono incredibili. Gli incendi sono circa un'ora e mezzo di distanza a macchina. Ed anche gli incendi sono in un passaggio molto simile, penso, di Sicilia. E una delle ragioni per cui amo vivere qui è simile di Sicilia, in California. California del sud. I miei genitori anche, i miei genitori stanno visitando da Boston qui per Natale, che sarà così bello. Anche Katrina, la mia sorella. Anche i miei genitori non hanno studiato italiano, ma hanno incoraggiato il mio interesse. Anche ho studiato la lingua latina al liceo, alle superiori. Ok, Cesare, ciao ciao, ciao, ciao. We'll talk soon, bye. Ciao. Ciao. Ciao